Stiamo andando a prendere l'iphone per la mamma Allora abbiamo preso Regalo per mia mamma, l'iphone 7 rosa, 32 giga e la coca E Renan ci ha fatto il mega sconto, quindi grazie Renan Ragazzi stasera un ritardo di un minuto forse, forse uno Confermo sono le 21.56 e sono arrivato tipo tre minuti fa Un minuto fa Oh, questo è il mio day five, cioè cinque giorni di seguito Ho fatto mercoledì, giovedì, venerdì e sabato e domenica con oggi Cinque giorni alla festa del lago Beh, perché conosci tutti? Sì Conosci tutte le fighe? Cioè, ci vado, eh, le lasciamo perdere Cosa dobbiamo andare? Parisi, viene la macarena o ci bidona? Viene starare il pizza Eh? Stavo riempito da questo vento Oh, va bene, va giù Oh, maronna mia Oh, cazzo Madonna, che cipolla che ho Bellissimo Fantastico Noi ti aspettiamo lì a dove arrivi, ok? Sì, è pieno Va bene, tra quanto? Sì, è pieno 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 Ciao 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 Roby No È venuta? Quale è la novità? Ma tutto su YouTube questo? No, dai Tutto no Ma ho un vlog Sai che ho un vlog con 38 iscritti? Sì 38, eh Dai, 39 da poco Ti iscrivi? Grande Ti voglio bene Come state? Ma non c'è male Ma stai bene Ti abbiamo mezza convinta, costretta a venire la sera No, ma a caso c'è un piccolare della Madonna Ma come è possibile? Te lo giuro Che sei tipo 2 km da qua Te lo giuro Era stra brutto casa Sexy C'è tu hai il portafoglio magico La sbavata magica Non ti prega nessuno Ripallo? Eh, è grandioso cazzo Ciao 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 Ferma Ciao 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 Come stai? Bene Figa È meglio della figa questa macchina Editiamo Che spettacolo Ma è quella che è appena uscita l'anno scorso al Salone? ah ok ok quanti cavalli ha questa 570 ah ok infatti ha due anni perché non vai quella è la 540 non la 570 su in tour oh 10 minuti eh ma neanche 5 ciao albi è stato bello mi hai capito con le balle già mi fago addosso aiuto io non sono abituato a queste aiuto amici è stato bello che spettacolo che spettacolo foot on the brake cosa devo registrare te chi sei alla guida aspetta che accendiamo eccolo tra l'altro te lo farò vedere a mimico sto video Zani Nissan GTR spettacolo appena tocco ma guarda che sotto i 3.000 giri è come una panda si si sotto i 3.000 si è già in quarta si perché è in modalità lei consuma pochissimo tra l'altro se non la tiri dove vado lei giù da te si lei tira qua a destra però si sente che appena tocchi vuole scattare beh certo lei l'hai fatta percorrere vai giù tutto senti la prima cosa fa metto un manuale come vuoi se vuoi cambiar tu scusate ho rotto la GT la Nissan GTR porco di non stai tirando stai cambiando a 4.000 giri e inizia a tirare a 4.000 giri sta macchina 3.500 è che ho fatto già così per me è tantissimo ok aspettati pronto dai da secondario metti in prima prima una di quelle cose da fare prima di morire l'ho fatta guidare una supercar grazie a te figurati grazie po' allora signori e signori qua è un evento più unico che raro una persona che adora Bryant Kobe Bryant si che ha il simbolo delle mie scarpe sto cadendo al tatuaggio del simbolo di Kobe sulla gamba che è spettacolare e io ce l'ho sulla scarpa Kobe è un eroe anche il mio io sono nato già dal 97 c'è la grande schiacciate da lì è diventato quando l'ha scelto Charlotte e lui ha detto o vado in Lakers o torno in Italia Kobe è un eroe sì ma stasera è una sedata pazzesca io ho incontrato una persona speciale come te perché sono una persona speciale poverissimo di Kobe quando si è ritirato ho detto no io stavo piantendo io ero sul divano a piangere sì contro Utah 60 punti ci sono troppo di con Utah figo ho detto è un film sono andati a vincerla e infatti con lui grazie a lui è una persona speciale e poi stasera ho guidato la Nissan GTR figa c'è serata spaziale per me figa allora vabbè comunque grande cos'è che non posso dire tette culo figa cazzo guerra guerra uccidere sangue tette culo farà un video in lupo andiamo in lupo tette culo amici oggi giornata fantastica ho guidato una delle mie macchine preferite che era la Nissan GTR chi l'avrebbe mai detto cazzo che avrei guidato una Nissan GTR ma la vita mi riserverà delle sorprese paurose andando avanti chissà cosa guiderò chissà cosa farò e Roby smetti di guardare le fighe non sono fighe c'è il vlog qua che devi dare la buonanotte scusate ragazzi adesso buonanotte no dico io prima buonanotte 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 buonanotte